Finisce con un lieto fine la vicenda dell'anziano scomparso a Prato-la-Peligni rintracciato nel pomeriggio a Roma dal personale del commissariato della Polizia di Stato, Roma Viminale, che ha provveduto immediatamente a contattare i familiari ai quali l'uomo è stato riaffidato in buone condizioni di salute. Che Roberto Giangiulios era rifugiato nella capitale si era capito già ieri sera quando le forze dell'ordine hanno sospeso le ricerche dopo che nelle indagini di Polizia Giudiziaria sarebbero spuntati dei testimoni che lo avrebbero visto sul bus diretto a Roma Tiburtina lo scorso 2 agosto da Prato-la-Peligna. Per lui si è immobilitata per una giornata intera una squadra di lavoro composta da circa 50 persone, fra carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino della Guardia di Finanza e Protezione Civile che hanno battuto a tappeto i fiumi e le strade di campagna della zona. Alla fine Roberto era salito su un bus e dopo ore di apprezzione riabbraccia i suoi cari che avevano dato l'allarme non vedendolo tornare a casa. Anche Laica e il suo amato cane torna a gioire assieme all'intera comunità pratolana tenuta fino a questo momento con il fiato sospeso.